Come arrivate a questo importante appuntamento, almeno fisicamente, come state messo? Fisicamente siamo molto bene, abbiamo recuperato ognuno dai piccoli infortuni che avevamo in precedenza, adesso è già da più di un mese che lavoriamo tutti e quattro al massimo, stiamo molto bene, continuiamo a lavorare, il nostro credo è sempre stato quello, a noi piace volare bassi, abbiamo in testa solamente le gare del 9 e del 14 e abbiamo solamente un modo per avvicinarci, è quello del lavoro. C'è qualche nazione che si teme sempre di più quando si arriva a questi appuntamenti? No, guarda, così di getto ti direi la Francia è sicuramente la squadra più ostica da affrontare, anche se noi nell'anno solare l'abbiamo battuta tre volte su quattro, quindi se la Francia è la squadra più forte noi di sicuro non siamo da meno, però come ti dicevo prima a noi non piace parlare tanto, piace dimostrare e speriamo di poterlo fare a Rio. Abbiamo lavorato duro, per la nostra squadra di squadra maschile il motto è il lavoro e poi qualcosa arriva sempre, quello che ci siamo meritati dovrà arrivare anche in questa occasione perché non avremo altri appelli, siamo pronti.